L'obiettivo è difendere e consolidare il terzo posto dalla mercato, l'opportunità di migliorare la rosa. Bisognerà crescere nella proposta di gioco e tornare a difendere meglio. Premessa d'obbligo, squadra completamente rinnovata, malgrado il periodo nero ormai prolungato 5KO nelle ultime sei gare. Il giudizio sulle prime 20 giornate resta senza alcun dubbio positivo. Il terzo posto rispecchia il valore dell'organico, Crotone più forte, Catanzaro di altra categoria. Purtuttavia l'involuzione è evidente, da più di un mese la squadra ha perso la sua caratteristica peculiare, ovvero l'aggressività. Non c'è sicuramente la brillantezza fisica della prima parte di stagione, ma ora le avversarie sanno come affrontare il Pescara. La prima finalità delle rivali, non concedere la profondità, è accaduto spesso all'Adriatico, dove l'11 di Colombo ha conquistato 16 punti in 10 partite rispetto ai 22 ottenuti fuori casa. Quando il Pescara è chiamato a fare la partita viene fuori qualche limite. Mancano le soluzioni offensive, ma anche il centrocampo comunque di categoria non sembra particolarmente assortito. Non c'è una mezzala di inserimento al di là di Mora, che può fare tutto per intelligenza tattica e spessore, ma la sua età non è più verdissima. Tutto ciò in attesa del miglior Palmiero, l'unico play di ruolo inorganico. Restando in tema di mercato, servirà anche un esterno d'attacco mancino, che può dare più soluzioni allo sviluppo della manovra. Da tempo, al di là delle smentite, il DS Biancazzurro Daniele Delicari ha messo nel mirino amato Ciciretti, che tuttavia, almeno per ora, non vuole scendere di categoria. L'alternativa è Federico Ricci, che però la regina non muoverà mai sondati Carretta, Orlando, Mosti, Vallocchia e Tessiore.